Allora, sono contento di essere qua per una serie di ragioni personali, didattiche e per quanto riguarda un po' quello che è il mio percorso. Chi ha seguito dei corsi con me sa perfettamente che l'insegnamento è, per favore disattivate tutti i microfoni, sa perfettamente che l'insegnamento è al pari della scrittura dei romanzi. A volte un insegnante insegna per compensazione o insegna per complementare quello che è il suo percorso. Nel mio caso è parallelo. E quando ho iniziato a insegnare seriamente, circa dieci anni fa, ho iniziato a capire che c'erano delle questioni che non giravano bene. Nel senso che la prospettiva dell'insegnamento in scrittura creativa era superficiale, almeno per quanto mi riguardava. Cosa voleva dire superficiale? Significava che si insegnavano incipit personaggi, si insegnava tutta quella parte estremamente interessante, ma estremamente diversa, rispetto alla profondità della creatività. Cioè, perché noi abbiamo una storia che in quel momento dobbiamo raccontare e perché non inseguiamo davvero quella storia lì? Perché noi tutta la vita giriamo attorno a un'idea o una forma di creatività che non riusciamo a mettere su carta o a narrare in altra maniera? Perché poi, quando io definisco struttura sentimentale, definisco un metodo che uno non applica solamente alla scrittura, ma applica in tutte quelle che sono le derivazioni creative della vita, anche sulla vita esistenziale, in sostanza. Quindi, quando ho iniziato a insegnare, ho capito che dovevo ribaltare la questione. Come l'ho capito? L'ho capito sulla mia pelle, da scrittore soprattutto. Io ho scritto sette romanzi, è il primo romanzo d'esordio, quello d'esordio è semplicemente un romanzo che viene, che è, che uno si trova tra le mani e che sembra una forma di pazzia quasi, perché prima non scriveva, adesso sta scrivendo davvero, per pubblicare o comunque per portare a termine un'opera. E quello fu un romanzo di successo, abbastanza di successo, ma che deviò la mia formazione di scrittore, perché lì a 25 anni mi gonfiai, alzai la cresta, malamente, e iniziai a scrivere un secondo romanzo che era pensato, non era avvenuto, non era, era fatto. È diverso un romanzo, un'opera che è o che è fatta. Quando interviene la parte del fare, allora noi siamo dentro una forma di premeditazione che non è più azione e basta. Ho fatto un secondo libro, che era un libro tremendo, brutto, ho pubblicato, ha avuto meno successo assolutamente, e mi ha costretto a capire che la scrittura e le forme creative hanno delle leggi molto precise, che è la legge della naturalezza e dell'ascoltarsi, non quelle del fare o dell'andare nella direzione di voler quella questione lì. Allora, da un certo punto di vista, ho iniziato a ragionare che non dovevo più ragionare. Il terzo romanzo è bianco ed è venuto anche quello sull'essere, ed è tuttora forse una delle mie opere di cui sono più orgoglioso. Il quarto romanzo è un'opera mezza e mezza tra l'essere e il volerlo fare, che si chiama Il senso dell'elefante, ed è un libro che si vede che a un certo punto ha delle deviazioni premeditate sulla trama, e non viene, non è reale, è fatto in parte. È avuto abbastanza successo, ma perché aveva anche qualcosa del noir dentro e iniziava a crescere. Insomma, io avevo capito che dentro di me c'erano delle cose che andavano bene e delle cose che non andavano bene, cioè delle cose per cui a un certo punto facevo, premeditavo e progettavo qualcosa. Infatti, quando un mio alunno mi dice ho un progetto in termine, mi vengono i brividi alla schiena, perché un progetto è qualcosa di raziocinante, di assolutamente schematizzato, e che ha una forma di, in qualche maniera, linea dettata antecedentemente alla sua realizzazione. Progetto non mi piace, uno mi dicesse almeno ho un'idea che non mi piace neanche. Se uno invece mi dice ho iniziato a scrivere e sento che questo è il mio libro, allora lì ci siamo. Quindi le parole chiave della struttura sentimentale non sono fare, non sono ho deciso, non è ho avuto un'idea, ma è ho percepito e ho sentito. Questa è sicuramente un bivio junghiano rispetto alle premeditazioni raziocinanti, ma questo è. Quindi ho appurato un metodo solo dopo aver scritto il mio quinto romanzo, che doveva essere un'altra cosa, avevo trovato un'idea meravigliosa, il titolo doveva essere Avere, che non c'entra niente poi con Avere è tutto, che è il mio ultimo, e doveva essere Avere ed era un romanzo con un'idea che gli editori volevano assolutamente da me. Cioè un padre muore, dona gli organi, il figlio ritrova la mancanza del padre attraverso la memoria cellulare. Quindi un padre, il suo padre mangiava le liquirizie, le ritrova nella persona che ha avuto il fegato dal padre, per esempio. Questo gusto per le liquirizie. E lui raccimo l'amore, amore, 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 in base alla memoria cellulare. Avere appunto la ricezione degli organi, è un romanzo che addirittura avevo progettato, andando dai medici, seguendo tutto l'iter della donazione degli organi, ma era un romanzo pensato, tant'è che la sintomatologia me lo diceva Chiara. Piuttosto passavo il Dyson o l'aspirapolvere, piuttosto che iniziarlo, oppure giravo il supermercato a vuoto, piuttosto che iniziarlo, mi inventavo lavori, piuttosto che iniziarlo, lucidavo le scarpe, piuttosto che iniziarlo. Eppure mi piaceva, eppure mi appassionava, eppure c'era qualcosa che mi diceva che era un'idea buona, ma non era secondo struttura sentimentale. Era secondo struttura di testa, non secondo quella base per cui noi siamo nati e quell'opera ci canta in quel momento quella determinata forma. Non iniziai mai quel romanzo. Il giorno o il mese in cui avevo deputato che avrei potuto iniziarlo, iniziai un romanzo, dal niente ero al mare a Rimini, mi alzai, tornai a casa e raccontai questa prima pagina di un ragazzino che a tavola sente che la madre sta tradendo il padre e sente che c'è qualcosa che sta cambiando in lui. Quel romanzo venne scritto dieci pagine alla volta, io che scrivo semplicemente metà pagina, un terzo di pagina al giorno, quindi dieci pagine al giorno per ventitré giorni, e mi scoppiò letteralmente in mano e si chiamava, sarebbe chiamato a Teosceni il luogo privato. Un romanzo che aveva una prima pagina in cui raccontavo un pompino che si prendeva il bivio rispetto a una prima pagina che doveva raccontare la morte di un padre e la sua donazione degli organi. Che cosa era successo in me? Perché io mi vergognavo di quel romanzo con un affellazio in prima pagina e invece rimanevo ancorato, nonostante le stesse scrivendo quel romanzo di quella carnalità, rimaneva ancorato l'idea raziocinante del padre della donazione degli organi, perché il padre con la donazione degli organi rispettava il benpensantismo di quello che gli altri si sarebbero aspettati da me. Un romanzo da primo della classe, un romanzo tecnico, un romanzo che avrebbe toccato temi etici, e assolutamente no, un romanzo sulla crescita sessuale e sulla tenerezza di un ragazzino che scopriva a se stesso tra la Francia e l'Italia degli anni settanta e degli anni novanta. Avere contro Atteosceni luogo privato. Atteosceni luogo privato fu scritto, fu scritto, non lo scritto, fu scritto in ventitré giorni, totalmente impossessato da questa cosa non premeditata e assolutamente non cercata, che poi sarebbe accaduta anche per metà infedeltà, che è un libro semi in struttura sentimentale, e si vede perché è freddo in alcuni punti, e totalmente in avere tutto, che invece è un libro secondo completo a struttura sentimentale, come Bianco, come Atteosceni luogo privato, e come il mio primo. Che cosa mi era successo? Lì definì questo metodo, che poi ho depositato, che è basato sul riconoscimento della sintomatologia di quando una parte di noi vuole essere in espressione, quindi un romanzo, un dipinto, una musica, una forma verbale, una forma di racconto, un modo di approcciarsi alla vita, una postura emotiva, che la definisce e guida le persone a riconoscere esattamente quella forma di potenza creativa con esattamente quella forma di espressione di creatività. La lingua, i personaggi, la forma di potenza, tutto questo è il percorso che ho studiato e che faccio pochissimo. Vuol dire che io questa parte completa di corso l'ho proprio lasciata in Holden, anche per gratitudine a loro che hanno creduto a me come insegnante, e l'ho portata sempre più avanti fino a definire un corso, che è un corso molto intenso, molto duro, molto forte, che vuole portare le persone a riconoscere quella parte espressiva di se stesso che a volte hanno il coraggio, a volte non hanno il coraggio, oppure a volte hanno il coraggio ma non hanno la chiarezza e l'essere nitido di cui hanno bisogno per portarle esattamente in potenza esternamente con il riconoscimento di una lingua e di un'idea. È un corso che forma un muscolo che poi le persone portano avanti da sole. Vuol dire che permette a chi partecipa di riconoscere una muscolatura sentimentale ed emotiva che a volte teneva nascosta, la individua, la allena e poi la utilizza successivamente da sé, sia per la scrittura se vuole, sia per altre questioni. Questo corso è stato fatto l'anno scorso ed era stato testato negli anni in over 30 attraverso una piccola modulazione all'interno degli otto mesi, poi è stato tracciato da me in America e in Francia fino a quando ho definito il modulo che è stato provato interamente l'anno scorso in un corso esattamente come quello che stiamo proponendo qua e che ha avuto risultati al di sopra di ogni mia aspettativa e io ho delle aspettative alte se faccio un corso perché altrimenti me lo tengo per me oppure lo continuo a testare ed è stato così meraviglioso il risultato che siamo rimasti quasi in una supernova di strutture sentimentali di riconoscimento di quello che abbiamo e anche di progetti poi fatti e intrapresi anche come punto di vista e sguardo e postura sul mondo tant'è che quest'anno ho deciso di volerlo riproporre è un corso che si sviluppa in maniera intensiva ed è proprio l'intensità del corso che permette la realizzazione del corso stesso cioè il fatto se fosse stato diluito non avrebbe e non potrebbe avere i risultati che ha perché io tengo molto la struttura sentimentale perché poi è una filosofia che si porta avanti nella vita che aiuta tanto a scegliere secondo questa terminologia che io uso che è sintomatologia quindi base ai segnali che qualsiasi cosa dell'esterno si trasmette se questi segnali avvengono vuol dire che lì sotto c'è qualcosa è come un metal detector che suona e allora va approfondito e quindi inizia il percorso di approfondimento non solo di riconoscimento e poi di espulsione positiva cioè di formazione questa questione avviene con grande forza perché è secondo un metodo e non secondo una forma di sfogo non c'entra niente lo sfogo non c'entra niente la psicanalisi non c'entra niente una forma espressiva elementare ma c'è una metodologia che è tripartitica ma intrecciata ed è secondo lettura quindi cominceremo ad affrontare la parte di struttura sentimentale secondo il nostro leggere secondo il nostro scrivere quindi creare ma anche secondo il riconoscimento del nostro bagaglio esistenziale arrivati al corso quindi ciò che ci ha colpito nella vita ciò che ci colpisce ciò che è una mappatura di tutte le questioni che sono importanti perché a me commuove Kate Herring e Ironium Bosch perché a me commuove il mobile un mobile una certa tipologia di mobili come la maglia degli anni 30 e 40 nelle cucine degli anni 60 perché mi commuovo davanti ai giacinti e non alle rose come mai ho una formazione creativa davanti alle mele cotogne e non davanti alle mele normali perché attraverso gli oggetti alcuni oggetti del reale che alzano la nostra sintomatologia noi capiamo che lì sotto c'è un patrimonio un filone d'oro assolutamente da esplorare a volte mi dispiace molto che le persone non capiscano o le persone creative o gli scrittori o generalmente le persone non capiscono che quando un'opera si blocca o una formazione che noi ci mettiamo in testa di fare si blocca non è perché non siamo capaci noi è semplicemente perché la struttura sentimentale non è quella non è in quella direzione lì perché una persona farebbe qualsiasi cosa piuttosto di iniziare o continuare un romanzo perché pur essendo un nostro amico quella persona lì preferiamo non frequentarla e le sfuggiamo invece incontriamo un'altra persona che conosciamo a malapena e non vediamo l'ora di frequentare perché c'è una sintomatologia di struttura sentimentale che ci indica che lì c'è un terreno di condivisione di compenetrazione del reale allora la questione importante non è solamente riconoscerla ma è avere il coraggio di andarci a fondo quando è il momento questo è un corso che in qualche maniera aiuta ad andare a fondo e soprattutto ti costringe anche perché io sono un insegnante abbastanza duro quindi quando qualcuno spende dei soldi per essendo io poi di nascita proletaria di famiglia quando qualcuno spende dei soldi per un corso io voglio che pensate la pazzia divido il costo del corso al minuto cioè quanto vi costa al minuto e quindi io non butto via un minuto e piuttosto mi scannerei e sono soprattutto uno che intensifica il minutaggio fino a che non non siete completamente svuotati quindi è un corso che viene che costa ma che si riprende in non solo in impegno e in intensità ma in consumo della persona e dei cuori quello che spende poiché non tollero minimamente che si venga lì a misurarsi e basta ci deve proprio essere una concretizzazione del sé che è una cosa a cui tengo molto ed è una cosa che poi aiuterà anche a capire delle questioni diverse per esempio quando leggiamo la struttura sentimentale perché a me piace moltissimo il vecchio il mare e mi piace molto meno per chi suona la campana di Hemingway perché io detesto Ferrante e amo moltissimo invece un'altra tipologia di letteratura perché io pur amando moltissimo Stendhal amo un libro e non amo l'altro capiremo come la struttura sentimentale formano i lettori e ci in qualche maniera produca una forma di attaccamento a un altro una cosa di cui io mi imbarazzo moltissimo è che io sono natalizio profondamente cioè io amo molto il Natale è una cosa che non ho mai nascosto quindi vengo preso in giro a Rimini dai miei amici regolarmente cioè io da verso il 29 di novembre 28 inizio a sfrigolare se vedo gli alberi di Natale mi viene da commuovermi addobbo tutta casa è una roba che stride anche con la mia tipologia di durezza su alcune cose questa cosa qua è legata apparentemente a un principio estetico cioè il Natale a un principio dissentore poi con la struttura sentimentale ho capito che era estremamente legata a mio nonno che è un formatore ed è un satellite che poi capiremo che cosa sono i satelliti rispetto alla struttura sentimentale che esprime la struttura sentimentale ed era legata a lui che aveva delle magie nei periodi natalizi questo ha prodotto in me i personaggi più forti dei miei romanzi Moses in per quanto riguarda Bianco ovviamente Nando per quanto riguarda lo sappiamo Avere tutto il padre di Libero Marcelli Natio Scini luogo privato il riconoscimento del Natale in struttura sentimentale ha portato al riconoscimento della figura di mio nonno che ha portato poi alla potenza dell'espressione di mio nonno in alcuni personaggi questo è avvenuto solo grazie al percorso metodologico della struttura sentimentale altrimenti avrei creato dei personaggi avrei creato delle funzioni in fedeltà il personaggio più autentico è Anna perché è secondo struttura sentimentale quello legato a una persona mia di riferimento altrimenti avrei fatto dei personaggi e quando si fanno dei personaggi si vede la differenza rispetto a quando sono dei personaggi ecco perché la scrittura a quel punto è strutturata secondo sentimentalismi e secondo parti sentimentali e non è fatta dalla conduzione solo raziocinante una cosa importante è che quando un'idea funziona l'idea si blocca qua nella parte alta quando un'idea trasmette e quando è secondo struttura sentimentale scende in tutta la parte anche del soma del corpo questo perché perché l'attraversamento sintomatologico è a più è olistico è a più riprese è a più conduzioni o conduttanze mentre la parte raziocinante blocca sempre infatti c'è un termine che detesto che è quest'idea funziona funziona fa schifo perché molte idee che noi possiamo avere funzionano quanti se ci mettiamo in 6-7 troviamo delle idee che funzionano tantissime però non basta l'idea non deve funzionare l'idea deve essere che è molto diverso ed ecco perché in quel caso lì quando un'idea è e quando un'idea viene dalla struttura sentimentale la scrittura è fluida ci viene facile non si blocca non abortisce ha un sistema di autoregolamentazione di ecosistema importante i personaggi arrivano da soli la lingua che non avevamo mai accarezzato diventa improvvisamente nuova senza che noi l'abbiamo premeditata anche se studiamo meno diciamo certi dettagli storici poi in corsa li studiamo e riusciamo a sistemarli e l'opera avviene secondo una secondo una formazione naturale come quando si esce di casa un giorno alle 5 del pomeriggio si deve tornare solamente per fare la spesa quindi un'ora si incontra quella persona che ci invita a bere qualcosa si va a bere qualcosa poi si va a mangiare fuori perché si aggregano altre persone e si torna alle 2 del mattino e dovevamo solamente andare a fare la spesa la spesa non è stata più fatta è stata fatta una parte di vita che è diventata un viaggio narrativo questa è in sostanza dall'alto la spolverata di quello che io ritengo l'humus di questo corso che è organizzato secondo delle tipologie tecniche e sono queste letture letture di scelte di libri che io faccio in classe da me ma anche da voi in silenzio do delle fotocopie e poi do dei file da vedere a casa libri da leggere prima quindi dal momento dell'iscrizione quando uno si iscrive ha un elenco di pochi libri da leggere esercizi in classe secondo tempi che detto io esercizi a casa tra un weekend e l'altro secondo tempi che detto io e correzioni sia in classe sia a casa una cosa molto importante nei miei corsi c'è una regola precisa a parte la puntualità che è quella che se qualcuno non vuole leggere davanti agli altri non legge perché io mi imbarazzai al tempo moltissimo quando ho frequentato dei corsi e mi bloccai mini B quindi se uno vuole frequentare la struttura sentimentale può farlo anche senza leggere niente senza scoprirsi più di tanto certo è bello quando uno legge e la classe lo aiuta in un abbraccio ci saranno correzioni fatte davanti alla classe solamente in parte le persone ascolteranno gli esercizi degli altri solo se lo vorranno e poi ci sono anche fruizioni di altre cose audiovisivi musiche e anche parti di dipinti l'arte la uso molto perché mi interessa anche il cinema lo uso molto in più ci sarà un compito finale che io chiamo batteria di tot di ore che vuole definire la vostra struttura sentimentale per quello che si è potuto fare in quel tempo lì che verrà mandato a me e che io correggerò secondo una definizione più precisa o proprio di rivoluzione rispetto a quella struttura sentimentale che verrà fuori da quella batteria stessa quindi voglio che usciate da questo corso con una forma precisa di struttura sentimentale o con un'ipotesi presunta di struttura sentimentale che poi voi definirete sempre maggiormente nel corso della vostra successiva vita insomma e vi porterà poi a fare delle opere questo è un Q&A sono andato un po' lungo vorrei sapere da voi se avete delle domande pratico o no forse è una domanda che mi verrà fatta non si lavora su opere già fatte si viene nuovi non è un corso di editing quindi non si portano dentro di noi cose già fatte quindi non vado a fare il corso di struttura sentimentale di Missiroli per sapere se l'opera che ho fatto già è o nel cassetto è buona o no non esiste si viene ex nuovi nuovi e da lì si comincia il percorso una volta fatto il percorso lì si capisce come mai quell'opera non andava avanti come mai si potrebbe continuare quell'opera lì ma secondo le direttive che voi avete trovato in voi stessi non secondo direttive tecniche che io vi do perché quello è un altro corso ed è un corso di editing o di qualsiasi altra cosa basata appunto sulla tecnica sulla premeditazione degli elementi già esistenti qua si va in esplorazione ed è la cosa più importante di tutti non so se ci sono delle domande da parte vostra qui uno chiede quanto durerà l'incontro l'incontro potrebbe durare il nostro di questo momento 40 minuti dipende dalle vostre domande quindi ditemi voi se ci sono delle domande che volete fare le parti tecniche le conoscete attraverso la segreteria di Holden io vi posso dare parti tecniche parti diciamo metodologiche per quanto riguarda questo corso ah se venite al corso siete miei siete miei miei totalmente cioè magari sforiamo tipo facciamo un'ora in più di corso magari vi do un compito di notte magari andiamo a farci una passeggiata insieme cioè siete completamente miei cioè vendete l'anima missiroli questa roba qui dovete saperla siete miei quindi chi viene è roba mia perché perché vi voglio scannare fino alla fine questa è una cosa a cui tengo di dire molto ci sono delle diciamo domande potete usare la chat allora non ho mai frequentato un corso della scuola Holden va bene per principianti non è una questione di principianti è una questione che non c'entra niente con il legame con i vecchi corsi assolutamente va bene e anzi farò tesoro di questa sorta di verginità non vuol dire che vai meglio te che non l'hai mai frequentato di un altro che l'ha frequentato vuol dire che è un metodo che va oltre qualsiasi passata frequentazione il corso è solo in presenza sì il corso è solo in presenza se per caso venite all'inizio e un giorno non potete venire io produco delle registrazioni del corso stesso che voi dovete ascoltare però la sera stessa mettendovi in pari per poi raggiungere il giorno dopo quindi una delle giornate si può saltare troviamo il metodo e il modo per compensare ditemi se ci sono altre domande ritiene che sia normale una modifica del proprio stile in funzione di ciò che stiamo scrivendo ritengo che sia normale e che ogni libro abbia probabilmente una forma di stile diverso che è una cosa diversa rispetto alla voce la voce letteraria narrativa e la voce di creatività di espressività è sempre quella ed è un timbro riconoscibile mentre lo stile la prosa deve e forse è meglio che cambi secondo la storia che si racconta si riconosce che sei tu perché quella è la voce ma la manifestazione del significante è diversa e può essere diversa perché se io scrivo ad esempio a volte basta per esempio ho notato nei miei corsi cambiare i nomi in inglese o in italiano e ti cambia lo stile oppure un'ambientazione esotica rispetto a un'ambientazione londinese e ti cambia lo stile quindi certo è normale hai detto che non ho capito se secondo lei documentarsi prima di scrivere è sbagliato no no va benissimo assolutamente solamente che quando sei in struttura sentimentale non è detto che quella premeditazione che tu avevi fatto fare un capitolo sul 1810 fare il secondo capitolo sul 1820 il terzo sul 1850 venga rispettato perché magari secondo una forma di struttura sentimentale un personaggio nel primo capitolo prende il sopravvento e allora gli altri due di documentazione che avevi fatto non sono più chiamiamoli giusti in essere ma solo secondo la tua premeditazione passata lì bisogna cancellare e fare la rivoluzione ed è un ottimo sintomo hai detto che scriveremo tra un weekend e l'altro ma è solo un weekend quando potremo scrivere quando potresti leggerci vuol dire che se inizia il corso da lunedì dal giovedì alla domenica io poi do anche dei compiti che potrebbero perdurare da un weekend e l'altro vuol dire che se anche non facciamo più il corso io testo vi testo anche in lontananza una volta finito il corso con piccoli esercizi questa è una mia mania e quindi per esempio finisce la domenica e io vi do un esercizio da fare per il weekend dopo non dovete venire in holden perché il corso è fatto è finito però io ho un po' la mania di sapere se si è depositato bene o no come fosse un controllo quindi in verità il corso ha una piccola scia ecco secondo la mia metodologia allora ok ritieni che il corso possa essere utile a scostare un velo di indifferenza e far afferrare qualcosa di trattenuto totalmente è proprio tralasciando la psicanalisi la maieutica che sono cose che mi interessano relativamente e su cui il corso non si basa è uno delle principi fondanti del corso togliere quel velo quella quarta parete a livello teatrale è andare direttamente dentro questa è una cosa per me fondamentale vediamo se ci sono altre domande una cosa che mi viene chiesta successivamente è un corso che può essere fatto sia con computer sia scrivendo a mano sui fogli è un piccolo dettaglio a cui tengo molto quando inizia il corso e quanto dura questo te lo dirà spero che rispondano esattamente qui la segreteria quindi chi di Holden è in ascolto scrivete tutto quello o mettete il link per favore quindi avrai Giorgia avrai il tuo la tua risposta qui a destra figurati ditemi se ci sono altre domande avremo un'aula tutta mia che è la mia solita che è un'aula anglicana anglicana significa io ho una fissazione per l'acustica e per la comodità delle degli allievi che devono sentirsi liberi ah una cosa importante un altro mio avizio quando io do degli esercizi in classe tengo moltissimo che questi esercizi non vengano fatti per forza sui banchi ma uno può andare nei tavolini fuori se non è freddo può andare al bar può andare nelle altre parti della scuola di modo anche che la scuola si fonda che è un posto meraviglioso con lui stesso e che ci sia una magia ulteriore quindi cerco anche di rompere un po' quello che la parte è il panorama scolastico ortodosso quindi su questo siamo liberi vediamo c'era qualcos'altro no mi sa che ci siamo se avete invece delle domande da fare non con la tastiera ma a voce fatemele pure perdere proprio la prima lezione rende poi impossibile partecipare al corso o si riesce ad aggiungersi in corsa no si riesce ad aggiungersi in corsa a patto Gaia che poi io ti mando per esempio il corso inizia la mattina va bene dopo tre ore c'è la pausa a pranzo io ti mando già la registrazione di quelle tre ore se tu ce la fai le ascolti se no le ascolti la sera assieme a tutto il resto che ti avviene poi via whatsapp ti mando le fotografie per esempio della lavagna oppure le fotografie di quello che ho letto gli schemi che faccio e tu hai purtroppo una serata un po' intensa magari vai avanti con l'audio e senti velocemente tenti a fare gli esercizi mi scrivi io ti rispondo via mail se riesce però spero che non più di una ecco perdere ok Gaia per Gaia va bene ci sono altre cose che mi volete dire a voce rispetto alla scrittura della chat di fianco magari qualcuno non è pratico e vuole sentirlo così forse no sto cercando di leggere capire qua attorno se c'è qualcosa no c'è un nuovo messaggio quando hai iniziato a scrivere a Teosceni luogo privato conoscevi già il finale no non conoscevo il finale proprio questo è uno dei concetti importanti una metafora che mi è stata fatta parlando con Alessandro Baricco mi è stata detta una cosa importante mi ha fatto un'obiezione no un'obiezione mi ha fatto un chiarimento mi ha detto quindi secondo te la struttura sentimentale è prendere un biglietto di andata mettiamo che tu da Rimini prendi un biglietto di andata verso Milano ok sai che vuoi andare a vedere il Duomo di Milano e vuoi andarti a mangiare il panzerotto di Luini vuoi fare questo Milano quindi parti col tuo zainetto sai che starai una giornata poi in verità il treno si ferma a Piacenza e tu vedi dallo scorso del finestrino qualcosa che ti piace un albergo con delle luci vedi un'oste che ti piace dalla finestra tu scendi dal treno e vai non vai più a Milano vai a Piacenza e non stai più un'andata e tornare in una giornata ma dormi lì e quella parte lì ti arricchisce tantissimo è questa parte della struttura sentimentale sì è questa a volte però uno vuole arrivare a Milano vuole andare a mangiare il panzerotto di Luina e vedere il Duomo però non sta solamente una giornata dorme perché incontra una persona che lo porta in una specie di bettola a mangiare gli piace tantissimo a una mostra e sta due o tre giorni a Milano non ha addirittura il pigiama ce lo deve andare a comprare allora questa è ugualmente la struttura sentimentale diciamo che è raro perché incontra la struttura sentimentale vada a Milano andata e ritorno mangi un panzerotto vede il Duomo e ritorni a Rimini nella giornata stessa buongiorno e grazie avrei bisogno di sapere il costo esatto con pagamento rateizzato grazie anche questo i ragazzi della Holden mi raccomando posso fare una domanda sì c'è un'altra domanda allora mi dici il nome Stefania Stefania vai eh sì siccome non so se la so scrivere questa cosa vai tranquilla ti sento parlare di struttura sentimentale e mi viene il sospetto che possa essere anche l'esempio che è stato fatto adesso parto da Roma vado a Milano non so dove non c'è il rischio che tutto questo sia un percorso un po' troppo soggettivo cioè che poi cosa intende per soggettivo cosa intendi intendo che poi non interessi tanto gli altri no cioè fare un corso per conoscere la propria struttura sentimentale è qualcosa borderline no un po' con la psicologia con quello che dicevi prima tu e che appunto ci interessa fino a un certo punto no trasformare però un percorso di struttura sentimentale tu hai parlato a un certo punto di mappa che mi ha risuonato di più no come concetto è solamente la prima parte il riconoscimento sentimentale poi diventa concretezza cioè l'opera che tu vai a scrivere secondo il riconoscimento di struttura sentimentale è nettamente quella che tu volevi scrivere se tu volevi scrivere una cosa sul medioevo ma non è secondo struttura sentimentale lo puoi fare ma sarà certamente meno potente di un'opera rinascimentale che tu senti molto di più e che deve essere concretizzata secondo una mappatura di satelliti quindi di interessi precisi i vestiti come si vestivano come si muovevano e che deve essere concretizzata secondo l'unione delle due forme la spinta che ti viene da scrivere è la parte concreta che tu devi fare cioè le ricerche ma lì avrai molta più forza perché è appoggiata alla struttura sentimentale quella medievale è solamente ricerca carazzacinante sì la mia la mia la mia perplessità è relativa non tanto al percorso dello scrittore comunque di chi ricerca dentro di sé la mappa la struttura ma della poi della produzione ah cioè sul riconoscimento esterno dell'opera sì il rischio è che scrivi una cosa che non dico che è il diario no sto chiaramente banalizzando è il contrario è il contrario Stefania ecco cioè il respiro il respiro collettivo è proprio perché non sei chiusa nella tua soggettività e nella tua parte psicoanalitica di sfogo allora è meglio che tieni un diario vai a fare analisi espressiva mi sembra la parte più difficile poi trasformare ma se sei secondo struttura sentimentale non scriverai mai la storia di un ragazzino represso che diventa e che interessa solo te ma scriverai una parte che avrà un codice di universalità esatto poiché proprio sei legata alla tua parte del codice interiore è il contrario se tu la fai raziocinante rischi e vuoi andare all'esterno ma ti leggo in 50 persone perché non c'è l'autenticità spero di averti in parte risposto allora vediamo cosa mi dice puoi spiegare meglio cosa intendi per metodologia visto che si parla di struttura sentimentale vuol dire che io ho solidificato una parte che può sembrare semplicemente sentimentale in un vero e proprio percorso concreto esercizi esercizi di comprensione di lettura parte testuale di confronto esercizi in solitudine esercizi di gruppo storia della letteratura applicata come hanno fatto loro perché Welbeck ha una struttura sentimentale Carrère ha una struttura sentimentale che ripropone e poiché invece uno scrittore che tende a imitare Carrère che ormai è imitatissimo non riesce a fare quello che lui riesce a fare quindi c'è anche un confronto di letteratura comparata in sostanza peccato non poter partecipare mi sarebbe piaciuto molare tutto venire a Torino buon corso che ci sarà grazie a te magari ci rincontreremo e vediamo no non ci sono altre domande credo non so se c'è qualcuno ah sì quando leggo a volte le storie mi restano dentro con tanta forza perfino a livello sensoriale mi nasce una scia per giorni ti capita anche quando scrivi che certi personaggi affondino il colpo dentro di te mi fa un po' paura questo mi pare che sia una cosa e poi no l'ultima no eh sì succede succede perché certi personaggi o certi libri hanno delle corrispondenze di struttura sentimentale legate a te o comunque di gusto gusto non è struttura sentimentale quindi ci sono dei libri come Stoner che ti rimangono profondamente dentro almeno per quanto mi riguarda e libri profondissimi come Memorie di Adriano per esempio che a me non sono rimasti oppure ci sono libri inspiegabilmente strani che tu chiedi chiudi e dici bah non lo so e poi ci pensi nei giorni perché sono andati a toccare delle corde narrative e sentimentali importanti e libri che dicono e dici bellissimo poi dopo un mese dici sai che non mi ricordo un cazzo di quella roba che ho letto e lì è tutto basato sulla struttura sentimentale di lettori che è diversa da quella da scrittori ma l'affronteremo vediamo scusami un'ultima domanda Federico vai come sei sceso a patti con quello che non ti piaceva della tua struttura sentimentale ah purtroppo lì come dice Cozzia il grande scrittore sudafricano lì vai in vergogna e la vergogna la devi scrivere non la devi tenere per te quindi non c'è parte di compromesso non c'è parte di patti se vai in letteratura o vai in espressività quello devi fare guarda Francis Bacon il pittore non avrebbe mai potuto fare nessun trittico se fosse andato a patto con la propria struttura sentimentale ma anche Lucio Fontana non avrebbe mai rotto una tela se fosse stato a patto con la sua struttura sentimentale quindi lì fai a patto con te stesso che stai pensando che ti stai vergognando e dici vabbè ma mi dovrò vergognare quindi vai dritto grazie Lucio a te ok Lisa ha detto che ti va bene spero di vedervi tutti non so una classe di 200 persone no comunque spero davvero che vi mettete in gioco che poi tra l'altro mi metto in gioco anch'io quando si fanno queste cose perché anch'io poi lì divento compartecipativi in una maniera abbastanza metodologica ma anche espressiva ecco se non ci sono altre domande potete chiedere tutto quello che volete in Holden e basta e le cose tecniche le cose più loro insomma io ho cercato di rispondere da insegnante speriamo di vederci il giorno di apertura della classe serve ma come seconda esperienza certo assolutamente come seconda esperienza di Holden assolutamente una cosa che faccio solo io che ho fatto dei corsi ho fatto anche dei corsi in altre scuole questa è una cosa complementare totalmente diversa do ancora qualche minuto se qualcuno gli viene qualche domanda forse no forse abbiamo chiuso abbiamo concluso grazie a tutti e ci vediamo in Holden un abbraccio un abbraccio grazie buona giornata a tutti buona giornata grazie ciao grazie ciao grazie ciao Marco grazie ciao grazie ciao ciao Marco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti